un saluto dal bianconero buonasera a tutti io cosa devo dire io cosa devo dire ragazzi io cosa devo dire devo spaccare tutto che cosa devo dire cosa vivo cosa vi dovrò portare questa sera agnelli nedved non mi voglio arrabbiare perché siamo inizio campionato però perdere con l'empoli no dai perdere con l'empoli no perdere con l'empoli no io devo lanciargli per marelli per aria qualcosa lo devo fare mi devo sfogare con la dirigenza con la continenza con tutta la dirigenza bianconero la domanda in quel posto ragazzi perde con l'empoli no inaccettabile e umiliante questa cosa ci rendiamo conto juventus empoli 1 a 0 empoli due partite due gol due partite un solo punto la lazio che vince sia uno con lo spezia che è la più a partita vinta tra uno contro l'empoli e la lazio di sarri che sta a 9 gol sei punti l'inter 7 4 con i genua 3 con il verona 7 gol e 6 punti come la lazio e la juve noi siamo gli unici noi siamo noi siamo dei fessi noi siamo dei povoloni noi siamo dei fessi prima di criticare dobbiamo osservare tutto con i nostri occhi l'addio di ronaldo noi siamo i più forti adesso senza ronaldo saremo grandissimi e ma stiamoci zitti stiamoci zitti chi sputi in cielo li viene in faccia più che ti chiare più lasco le sconfitte aumentano più le sconfitte aumentano ma io sono veramente basito sono veramente basito perché una squadra come la juventus capisco la prima giornata dal 2 a 0 juventus che ti fai montare due a due grosse cose ma vabbè può capitare a qualunque squadra parlando dell'asse ma tre partite consecutive peste 1 a 0 2 da 0 con i celsi 5 a 0 con l'asse con l'asse ma al 50 con i siti volevo dire c'è ma io non ho parole non ho parole cosa devo fare io cosa devo farlo spaccare tutto devo spaccare l'intero mondo non ci possiamo in nervosire perché questa ragazzi una squadra con mille problemi tattici mentali fisici tecnici ma non c'è non cosa devo dire non ho neanche le parole per commentare questo video io oggi vi devo portare un oggetto misterioso mi ma proprio di cui misteriosi tanto 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 ma forse lo porto domani se dio vuole forse lo porto domani se tutto andrà bene però perdere con l'empoli inaccettabile è umiliante è umiliante e sono basito siamo basi di tutti i tifosi juventini che a torino c'è gente che spende soldi per vedere la juventus perdere tenete gli stadi a porte chiuse tenete soltanto lo strado la lancia stadium di torino tenetelo con le porte chiuse a porte chiuse non fate entrare i tifosi perché quei tifosi alla fine della partita hanno fischiato spero e quei fischi sono sono in favore per la juventus perché l'empoli che da torino da torino da torino che viene qui a vincere un a zero con i gol credo di mancuso sono soddisfatto per loro alla fine non sono neanche agrabbiato sono felice per l'empoli perché la vita bisogna essere sportivi e comunque rimane una vergogna della juventus e una soddisfazione da parte dei tifosi dell'empoli veramente gli azzurri perché oggi avevano credo la maglia blu gli azzurri di questa sera a torino hanno veramente dominato lo stadio veramente tifosi juventina mutoliti mamma mia da torino è da torino sono venuti fino a torino non dice mai facciamo via torino che ne cantiamo quattro sono venuti a torino per sfidaccia a occhi aperti noi eravamo tutti con la cosa sottistato con la testa coperta dal sacco loro giocavano a memoria tre passaggi entrano subito in aria segnavano e così bisogna giocare e l'empoli non è neanche una squadra debole anche se ha preso 3 1 con la lassima una squadra forte e oggi ci ha dimostrato chi è davvero perdere veramente a torino in casa nostra noi juventini è una di quelle vergogne ma vergogne più totali una squadra con mille problemi 100 campi è rovinato l'attacco non ci manca ci manca ancora attaccando la difesa tutta anziana un c'è un potere che non paga niente questa squadra non ha anima questa non è anima questa non è anima è una squadra senza anima senza cuore non vuole trasmettere il sentimento ai tifosi non era come una volta la juventus del 2017 dell'epoca scudetti che segnava al raffi che non lo è più non l'è più questa juventus la devi rivedere dal binocolo la devi rivedere dal binocolo così è veramente una vergogna di quelle totale una vergogna di quelle totale e non so cosa dire l'addio di cristiano ronaldo ronaldo sanato da juventus abbiamo perso lo cosa diciamo fare che cristiano da non serve a nulla avviene cristiano ronaldo e metti più quindi ci fa vincere e alla fine cui sbaglio pure a dire cristiano ronaldo non è bravo cristiano nado c'è sotto mille partite ha ribattato l'atletico e poi noi cosa facciamo le juventino critichiamo noi non siamo sportivi su confronto di ronaldo da una parte questo cristiano ronaldo non è non a tutti tutti siamo noi che abbiamo tanti tutti ma non lui punto però è una vergogna e non so più cosa dire come sempre ragazzi trovate l'app one football la mia applicazione di calcio che mi permette di ascoltare tutto il mondo e calci tutto di più noi ci vediamo con un prossimo video ma rimane rimane proprio amarezza rimane l'amarezza dentro i cuori dei tifosi giuventini veramente una rabbia gigantesca una rabbia veramente gigante io non so più cosa fare io dovevo portare dovevo portare un oggetto un oggetto misterioso ma non lo posso fare perché anche vero pericoloso e mi sono fatto male anche il dito da fino a fine bianconero vi saluto noi ci vediamo con un prossimo video juventus fai schifo a giocare in questa maniera fai schifo il controllati